Pasquale è l'ora di là ho chiuso tutto, sono rimasto solo io in azienda, posso andare a casa? Ok, auguri e buona Pasqua a te e famiglia! Grazie prego! Voglio fare una bella sorpresa, quest'anno per Pasquetta 100 euro è giù, 100 euro è giù! Grazie Pasquale! Per Sabrile! Diciamo 100 euro! E io che cosa sono buono? Io guardi lì, sono cari, mamma! Non c'è nessuno, non c'è nessuno! Ah, giustamente perché Pasquetta è il primo aprile, quindi cittadino è sempre lo stesso, non è vero? No, non c'è nessuno, è già! Ci sono i giorni giù, devo preoccupare, fare una bella scambagnata a Pasquetta A proposito di parlare, hai parlato della Damsa, non c'è nessuno? Ma non c'è nessuno? E se non è così! Tu vuoi portare un luogo e creare un luogo? Ah, grazie Pasquale! No, un luogo a casa! Ma non c'è nessuno, ma per figli mi faccia mettere la reddola! Ogni dipendente andava a stare qua, a fare la segretaria e si chiedeva qui! Chi se lo ha portato? Qui, tu fai una festa! Mangiatelo dopo la cena, perché sennò finisce domani prima! Che si mangia la rusta! La buffa! Non mi ha niente giù! Grazie Pasquale! Va bene! Io lo mangio più riprese! Bravo! Mangatelo appuntato! Eh! Grazie! Buona Pasqua! 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 Buona Pasqua!